Questo vediamo se l'avete già visto, è questo qui, tutti seduti, questi sono due carte dove stanno disegnati due animali, dopo vi faccio vedere, poi ci sono due carte, un attimo, seduto, seduto, due stanno delle carte dove stanno disegnati degli alimenti, tipo carne, pesce, verdura, e le metto qui, mischiate, una qui, una qui, una qui, una qui. Una qui, una qui e una qui. Solo due di questi alimenti vengono mangiati dai due animaletti che stanno qui. Allora, vediamo, Matteo, dove è Matteo? Eccolo qua. Mi devi dire un numero da uno a sei, quello che vuoi, quello che vuoi. Cinque. Parto da qui o da qui? Da dove parto? Da qui? Ok. Uno, due, tre, quattro e cinque. E la mettiamo qui. Perfetto. Ok. Poi, 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 tu come ti chiami? Martina, mi devi dire un numero da uno a cinque. Quattro. Da dove parto? Da qui o da qui? Da qui? Da qui. Uno, due, tre e quattro. Eccola qui. E le mettiamo qui. Però ancora non vi ho fatto vedere quali sono i due animali. Adesso ve li faccio vedere. Allora, il primo, eccolo qui, è un bel coniglietto. E il secondo? Qual è il secondo? Secondo voi? Una? Una scimietta. Allora, un coniglietto e una scimietta. E queste sono le carte che ha scelto Martina e Matteo. Allora, coniglietto e la scimietta. Cos'è che mangio il coniglietto? Bravi. E la scimietta? La banana. Bravissima. Allora, prendiamo la prima, vediamo. Carota. Aspetta. Prendiamo la seconda, vediamo. Banana. Bravissimi. Facciamo un applauso fortissimo per Martina. E per Matteo. Bravi, bravi, bravi. Sono stati bravi. Però voglio vedere quali alimenti mi hanno lasciato. Lì stanno gli altri che non vi ho fatto vedere ancora. Vediamo cosa sono. Vediamo. Uno, due, tre. E quattro gelati. Chi che vuole un gelato? Io! No? Questi li mangio tutti io. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Siete stati...